eh si ti ho chiamato per mettere le palline più velocemente sai allora dimmi le palline sono la io le devo passare? no devi mettere le pigne no prima le palline ah prima le palline questo mico palline cosa metti le pigne e i clisteri a fare io metto da questa qua fai tu ok bene le palline blu palline blu prendo quattro palline blu e una e una rossa ok? ben vedere quella rossa rossa bene le palline stanno cadendo le palline stanno meravigli e non c'erresti morta qua giù bene ok spero che muoia non vi hai ascoltato fate che quello lì è un clisteri non è un cuore bene questa manca la cosa per mettere la nostra semplicemente staccata in questo esatto secondo bene cosa è successo? pende bene dobbiamo mettere il peso dietro metteci l'uccellino giusto ok nel trattempo mentre mento tutte queste palline mi sembra la mia fidatissima assistente bello dai è venuto bellissimo sta venendo bellissimo sai non è ancora finito? questo basonete la sul vetro quando era John non è papi? ho detto sul vetro qua e poi John non è un babbo e poi non ci sono babi ci sono solo Gandalf si chiama Gandalf si chiama Gandalf si chiama Gandalf? no tutti i bambini si chiamano Gandalf Gandalf basta palline no tu metti palline scusate ok palline 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 ok 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 bene ora visto che mi sono liberato da quello schifo di tono che stavo facendo finora posso tornare cosa vuoi fare? spin tutto speravo che adesso si rompesse spaccato mi piace proprio spinito speravo veramente spinito spinito ok bene l'assistente inizia a mostrare qualche spinna se le faccio a mostrare io si fai altre benedità ok bene queste sono pigne 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 ha solo 500 euro luna ha solo 500 euro luna chiamatemi al numero 3 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 4 ok le palline sono finiti signori finiti niente le palline non sono più in vendita si vende tutte niente niente il numero lo potete mettere dice margatti tanto non serve più a niente le palline sono già state tutte vendute strisce no vedete queste sono strisce 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 mettiamo queste no fate prevede strisce bene dopo aver messo tutto questo bisogna mettere impossibilmente le strisce strisce e affare che tengo l'altro sono cadere che bello spero che cada perché si fanno i tuoi tutto sarebbe un sogno scena finale disastrosa no no non c'è una finale c'è una di mezzo la scena finale è io che con una magia faccio un zing dangling e poi non riempare magicamente però lo sai che l'hai fatto bello si 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 c'è ah si si bellissimo vedete ecco rovino stai tranquillo bene per cavolo guarda se c'è un grumo c'è un grumo molto grumissimo grumo grumo bene abbiamo 9 minuti non abbiamo 9 minuti ci sono 46 siamo al 32esimo minuto siamo scemi e mi viene da andare quella è la parte più forte eh sì mi sa che più che scegliere le parti migliori non metterà un puntato dietro sono proprio uno scena questo non le metto che bello bellissimo mettile di là le metto io dai le metto dietro bene ora prossimo lo strano cosa di diamanti che si è già riassossigliato per 30 secondi bene vedete sarà una cosa di diamanti diamanti veri mille euro al secondo lo potete solamente noleggiare non è in vendita ma però è inquadrato no ma se c'era io davanti era un po' difficile che rimanessi inquadrato sai ma sono un po' nemmeno tanto posso fare un'inquadratura qui da vicino no alla fine quando ci saranno bene i diamanti guardate che bei diamanti inoreggiabili a solo mille euro al secondo al solito numero riassionamento bene, ora, luci eh, le luci ormai non so come fare a mettere ma le possiamo mettere dentro dietro così l'illuminano da dietro no assistente, almeno fatti inquadrare vai, gira intorno no anche perché io ho la stiglia allora, io tengo questa in modo che così abbiamo cosa per guardarla guarda, guarda sono tanto scemo proprio uno scemo che è un po' scemo se sei uno scemo con tanto scemo facciamoci un giro in sol io stavo a gioco di cucelare per eliminare luci con l'unico da ok questa è facciamo un giro intorno così grazie assistente con l'assistente qua spero di rimanere incatenato all'albero ecco fatto così potevo rincattare i multipli del 37 adesso aspetta, non è normale adesso sono i multipli del 37 dimmi tutti i multipli del 37 assistente aspetta che l'assistente fissa è perfetto dimmi il multipli del 37 è semplicissimo così dovrebbe starci giusto? no, sta cadendo da che parte? no, è perfetto non so dai no, manca una pallina ah ci vuole il mio bambino quello bruttissimo ah si dai il cimelia inquadra dai bene, si ok bene, questo qui è il bambino più schifoso del mondo bene, ok? aspetta aspetta lo metto sul davanti lo metto sul davanti ecco questo è al davanti per voi quello inquadrato questo invece è dietro non quello che vedo io eh quello che vedete voi era bene non si riesce a sciogliere a permetterlo quindi muore e lo posa qua così senza niente così cade bene e la punta? eh eh ma ma sai non dovresti attivare non so da tua madre sono l'assistenza oh ah ah non è la punta la punta è qui vedi? è qui però il bambino vedete? che bella punta 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 puntazza l'ho finita ecco ecco vediamo come ci sta vediamo come ci sta vediamo come aspetta prima la devo far vedere ecco questa è la punta il filo è integrato vedete? bene no ma dai fa parte della punta perchè hai tolto il filo? sono le mie cuffie appunto le tue cuffie così hanno un onore di far parte dell'albero di Natale da Nintendo da Nintendo no vale male che puoi fare un commento su questo schifosissimo albero di Natale ahhhh no perché non ci sta perchè per questo bene non me ne frega niente di come lo mettavamo agli altri anni quest'oro lo mettiamo così ok devo vedere accendiamo anche le luci no cioè secondo te io ora vorrei accendere le luci ma cosa dici dai ma come si fa cioè secondo voi io ora vorrei spegnere la luce della camera e accendere le luci che cavolo di idea è dai su insomma cioè si ok la celestiale voce assistente assistente stop bene questo è l'albero di Natale una volta illuminato a luci spente e accendo anche questo e fa schifo no è bellissimo ho detto che fa schifo e quindi è bellissimo ecco questo è l'altro alberello di Natale prefabbricato bene visto che mancano non sono più cinque statene zitti non si si vede manco si si vede su una specie di ovale comprendente il collo i capelli e il corpo va a fanculo e lascia un po' in pace le anime del signore del male oh oh io sono la Nintendo signora del male oh bisogna dire che quest'albero fa proprio schifo ma anche io sarei riuscito a farne una peggiore in questo dire tutto la scimmia ha fatto un buonissimo lavoro molto più che l'assistente qui presente oh oh vorresti farti vedere sai oh oh è schifo vado via a chiamare un attimo la cimia oh 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 e io vi intratterò con uno show di risate oh 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 ecco la cimia oh cimia falo tu potresti anche parlare non c'hai bisogno che tu ti icprima a gesti con due canzi in testa oh ah mi ha rompicaro ah تшего E adesso dovete mettere la collezione a te. Ok, bene. Ci vediamo alla prossima puntata delle forie natalizie. Si vede drastico. Vabbè, chissene. Fate finta che sia la mia bocca. Anche se non sembra affatto una bocca. Ci vediamo alla prossima puntata delle forie natalizie. Il presepe. Ora non riesco a stoppare con il miglior cavolo. Fate finta di non aver visto niente.